Salve a tutti, mi chiamo Andrea Giannone e sono l'amministratore dell'Asus Gold Store di Modica Giannone Computers. L'azienda è stata fondata nel lontano 1967 da mio padre, il quale è stato sempre un innovatore e un attento al mercato e alle tecnologie. L'Asus Gold Store è l'espressione della massima tecnologia e dell'informatica, a cui il brand Asus ci ha abituato negli anni. La tecnologia è frutto della sapienza umana, questa ci aiuta molto a semplificare tutte le attività complesse. Un cliente appena ha fatto conoscere i prodotti che Asus offriva e ha deciso di acquistare il telefonino, il notebook, il PC Only One. Vi invito a venire nel nostro Gold Store di Modica, sarete trasportati nel futuro della tecnologia.